Siamo con Max Menetti, primo giorno ed esordio al TVB Camp. Max, com'è andata la lezione di questa mattina, l'incontro con i ragazzi? Beh, è stato un esordio, devo dire la verità, molto duro, probabilmente sarà la cosa più dura di tutta la stagione. No, scherzi a parte, è stato molto bello, soprattutto così prendere contatto già ieri sera con le famiglie. Il fatto che ci siano 100 bambini a un camp di una società di Serie A è una cosa veramente bella. È chiaro che hanno la loro visione della palacanestro, è quello che dovremmo sapere interpretare, ma è anche bello vedere il futuro di Treviso Basket. Tante domande, alcune un po' difficili, mettiamole così, da rispondere. Sì, diciamo che attraverso l'autolicenziamento in caso di sconfitte o per cada domanda se schiacciavo, però sono le cose anche belle e l'innocenza dei bambini. Ecco, ormai è un mese che ha iniziato la tua attività qui a Treviso. Un bilancio di questi primi 30 giorni a TVB? Beh, un bilancio più che un bilancio è una percezione di un bellissimo ambiente e soprattutto di aver ricevuto tanto affetto, calore, e tanta energia, la voglia comunque già di iniziare un'esperienza nuova, una città che in tutte le sue componenti personalmente mi hanno dato veramente tanto. E insomma, quindi ho detto, questo è un grande senso, ho dato ancora più senso e responsabilità rispetto a chi mi ha dato questo affetto e soprattutto questa responsabilità. Un mese caldissimo anche in ambito mercato, gli arrivi di Alviti, Tessitori e Tomassini hanno fatto sicuramente muovere l'entusiasmo dei tifosi. Ecco, un bilancio anche su quello che sta accadendo in questo mercato complicato, difficile, ma sicuramente interessante. Beh, diciamo che i mercati sono sempre tutti complicati e difficili. Abbiamo cercato insieme ad Andrea Cracis di lavorare sulla De Longhi 18-19 con un po' di idee. Di sicuro abbiamo sempre parlato di identità e speriamo e stiamo cercando ancora giocatori che possono calarsi in questa identità De Longhi il più velocemente possibile. Quindi di sicuro sono ragazzi di valore, sono ragazzi anche giovani, sia nell'esperienza che nell'età e da questo ripartiremo per la nuova stagione. Uno dei nuovi volti è Amedeo Tessitori, questa sera impegnato nel match di qualificazione ai mondiali con la nazionale italiana. È sicuramente una grande soddisfazione, è il primo giocatore di TVB a vestire la maglia della nazionale maggiore. Un valore aggiunto sicuramente in un campionato competitivo che sarà quello di A2 l'anno prossimo. Beh sì, possiamo dire di aver mandato subito un giocatore in nazionale prima ancora di comprarlo. Però sì, Amedeo è sicuramente ancora un prospetto. Credo che lui abbia tutta la voglia di esprimersi per tutte le sue potenzialità. Avremo bisogno tanto di lui, quindi è un giocatore sicuramente del grande valore, ma allo stesso tempo è anche un giocatore che può avere quell'ambizione e soprattutto quelle motivazioni che possono spingerci a far bene. Il programma estivo della De Longhi quale sarà? Ma diciamo che adesso abbiamo fatto una settimana dove ho rivisto un po' soprattutto i ragazzi giovani. Poi c'erano anche Michele Antonutti, Matteo Imbrò, è passato Sabatini. Semplicemente un po' per rivederci. Adesso tutti i ragazzi più o meno stanno riposandosi perché questo è anche il momento dove ricaricare le batterie. Sta lavorando forte il settore giovanile e adesso è il momento naturalmente della programmazione della nuova stagione. Però insomma, già passando attraverso questo camp si comincia già a percepire il profumo di quello che sarà il prossimo campionato. Insomma, c'è tanta voglia di riniziare. Insomma, c'è tanta voglia di riuscire.